Domenica 15 marzo 2020 Catanzaro città completamente deserta, immagini spettrali e surreali quelle da noi registrate intorno alle 18.30, tutti rintenati nelle proprie abitazioni, si scorge solo sporadicamente qualche audace passeggiare e qualcuno accompagnare velocemente il proprio animale domestico, si intravede dai balconi qualche bandiera tricolore che invita a resistere all'emergenza e a non abbattersi. Tc ci troviamo a Catanzaro nel centro storico della città, una città completamente vuota, completamente deserta come state già vedendo dalle nostre primissime immagini registrate, ci troviamo nell'area di Bellavista, Via Nuova per la precisione, una zona da qualche giorno percorribile a scendere che poi imbocca Viale dei Normanni per poi proseguire verso il centro della città. Proseguiremo, percorreremo l'intero Corso Mazzini da nord verso sud, quindi dall'area del San Giovanni, percorreremo tutto Corso Mazzini interamente, si tratta di una città completamente, totalmente deserta, vuota, Catanzaro così come tutte le altre città calabresi e italiane per questa tremenda fase emergenziale sanitaria legata al coronavirus. Siamo alle ore 18 e 15 di domenica a 15 marzo 2020, una Catanzaro completamente, totalmente deserta. A voi le immagini di RTC. A voi le immagini di RTC. Grazie a tutti.